La novità del life design è questa, che la vita è molto più di quanto possiamo immaginare. Ve l'ho raccontato con il mio esempio oggi, quando vi ho fatto vedere il grafico di trading, no? Se ci pensate, le più grandi scoperte scientifiche sono avvenute mentre si cercava altro. Compresa l'America, che non è una scoperta scientifica. Esatto, in un certo senso, sì. E quindi, che meraviglia è l'idea di addirittura vedere i risultati del nostro lavoro superati, che superano anche la nostra più rosea immaginazione. Perché è di quello che stiamo parlando, ragazzi. Vi stiamo dando uno strumento che vi porterà a ottenere dei risultati superiori a quello che attualmente, con il vostro stato di consapevolezza, potete immaginare. La penicillina, scoperta mentre si cercava altro. L'insulina, scoperta mentre si cercava altro. Il pacemaker, invenzioni tutte che poi hanno prodotto ricchezza, benessere, salute. Il forno a microonde, perché no? Il velcro e soprattutto. Chissà che cercavano. Anche se secondo me quello lo cercavano tutti, poi l'ha trovato uno che non lo cercava. Come dice sempre lui, uno dei nostri guru, il caso e l'oggetto prima è quella parola che usiamo per coprire e giustificare la nostra ignoranza. L'ignoranza di cosa? L'ignoranza che se si ha un metodo, se si agisce, azione, se si seguono le leggi del karma, se si imparano cose nuove, quest'ignoranza diventa un meccanismo naturale. Il live design, che siete qui insieme a fare questo lavoro, significa porre rimedio a quel tipo di ignoranza. Il live design, che si è un metodo, è un metodo che non è un metodo che si ha fatto, non è un metodo che si fa colite un'oggetto.